Il vicepremiere e ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, sta portando avanti con tenacia la sfida che storicamente fu del Cavaliere, ovvero quella di realizzare il ponte sullo stretto di Messina. Quando diventerà realtà, sarebbe bello se potesse essere a lui intitolato. E questa è la proposta di Luca Baroncini, commissario regionale legato Scana, all'indomani della morte di Silvio Berlusconi. Un progetto che dovrà essere accolto, tra gli altri, anche dai presidenti di regione, certi che Occhiuto, fedelissimo emico di Berlusconi, non esiterà a dare la sua benedizione. Ma primo, ovviamente, bisogna capire se davvero questa grande opera verrà realizzata. Una notizia, quella della dipartita dell'imprenditore, presidente, comunicatore, editore e leader di Forza Italia, che sta attraversando i continenti e di cui tutti i principali giornali del mondo stanno parlando. Dopo il momento del cordoglio, però, sarà quello dell'assestamento del partito, per capire il futuro di Forza Italia e chi sarà l'erede del Cavaliere.